Benvenuti nel mondo degli orologi Raymond Veil. Raymond Veil è un marchio svizzero di orologi di lusso fondato nel 1976 da Raymond Veil, un orologiaio svizzero con una grande passione per l'arte e la cultura. Il marchio si è guadagnato una solida reputazione grazie alla sua attenzione ai dettagli, alla qualità e alla precisione dei suoi orologi, che sono diventati un simbolo di eleganza e raffinatezza in tutto il mondo. La collezione di orologi Raymond Veil comprende modelli sia per uomo che per donna, tra cui cronografi, orologi automatici e orologi al quarzo. Tutti gli orologi Raymond Veil sono realizzati con materiali pregiati come l'acciaio inossidabile, il titanio, l'oro e il platino, e dotati di movimenti svizzeri di alta qualità, che garantiscono la massima precisione e affidabilità. La collezione di orologi Raymond Veil è divisa in diverse linee, ognuna delle quali caratterizzata da un design unico e distintivo. Tra le linee più famose troviamo la Raymond Veil Freelancer, la Raymond Veil Tango, la Raymond Veil Maestro e la Raymond Veil Parsifal. Ogni linea presenta modelli specifici, tutti caratterizzati dalla qualità e dall'attenzione ai dettagli che contraddistinguono il marchio Raymond Veil. Ma Raymond Veil non è solo un marchio di orologi di lusso, è anche un marchio che si impegna a sostenere la cultura e l'arte, come dimostra la collaborazione con diverse istituzioni culturali e la creazione di edizioni speciali di orologi ispirate a celebri opere d'arte o musicisti famosi. Ad esempio, il marchio ha creato una collezione di orologi ispirati alla celebre opera di Shakespeare, Romeo e Giulietta, nonché una collezione di orologi dedicata al celebre musicista David Bowie. Inoltre, Raymond Veil ha collaborato con numerose personalità del mondo della musica, tra cui i Beatles, Frank Sinatra e il jazzista Dave Brubeck, creando orologi speciali in loro onore. Se stai cercando un orologio di lusso sofisticato e di alta qualità, gli orologi Raymond Veil potrebbero essere la scelta giusta per te. Grazie alla loro attenzione ai dettagli, alla qualità dei materiali e alla precisione dei movimenti, gli orologi Raymond Veil sono diventati un simbolo di eleganza e raffinatezza in tutto il mondo. Inoltre, grazie alle numerose collaborazioni con il mondo dell'arte e della cultura, i modelli di orologi Raymond Veil sono anche un'opzione per coloro che cercano un orologio con una storia e una personalità uniche.